Un artista siciliano che conosco da tempo e ho anche seguito e che è stato apprezzato anche dal corpo e che a testa riporta il freggio come quasi fosse una fotografia, ma è dipinto. Grazie, la ringrazio molto, è davvero molto bello. È suggestiva anche l'interpretazione, questa diffusione dei colori, l'idea dell'apertura del contatto diffuso nel territorio. Grazie.